Vincenzo Gallo è stato consigliere comunale tra gli anni 80 e il primo decennio del 2000. Oggi dice la sua sull'attuale situazione politica cittadina. Gallo critica le scelte urbanistiche e amministrative che a suo avviso hanno isolato il centro di Angri, frammentando la comunità e penalizzando il commercio locale. I servizi pubblici sono stati spostati fuori città, spiega obbligando i cittadini a usare l'auto e spostando l'indotto verso i centri commerciali periferici. Gallo sottolinea inoltre la perdita di socialità e decoro urbano, esortando i cittadini a recuperare il senso di appartenenza per dare nuovo slancio ad Angri che sta attraversando, secondo lui, un lungo medioevo. Ci sono delle scelte pluridecennali che hanno punito, secondo me, il paese, intanto perché manca la discussione e questo ha consentito delle scelte di cui oggi paghiamo le conseguenze tutti. Non vorrei sembrare troppo lontano, ma noi abbiamo ancora le aree dei prefabbricati leggeri non utilizzate e quindi decidemmo all'epoca, fu deciso all'epoca contro il parere di grossa parte del comune, di fare le cooperative fuori dal paese e noi abbiamo praticamente il paese che muore, nel senso che muore come socialità e muore anche come commercio, perché se io abito a via generale Gennaro Niggio, ovviamente per prendere la macchina devo pagare il parcheggio in centro città, preferisco prendere l'autostrada e vado ai centri commerciali. Se io, e queste sono scelte molto, se io trasferisco una funzione pubblica come ad esempio l'Exinam e la porto in pratica a Sant'Antonio Abbate, il cittadino anche questo deve prendere la macchina per andare al centro, quindi si è depauperato il paese non solo di funzioni ma anche di socialità. Se a questo aggiungiamo che a differenza di quando faceva un amministratore addirittura precedente a quando io per breve periodo ho fatto l'amministratore, quando al centro del paese si faceva vicino al centro, alle case popolari, una chiesa e una scuola, oggi abbiamo deciso di mandare i bambini fuori a scuola, lontano in macchina e abbattere la scuola e far venire al centro del paese le auto. Quindi noi abbiamo privato, abbiamo tolto socialità al paese, voglio dire che si può essere non d'accordo però credo che su questo andava fatta una discussione, per cui c'era all'epoca chi come me e un vasto gruppo pensava di fare al centro, ad esempio a fondo Cagliazzo, trasferire al fuori dove stanno adesso le cooperative, anche il campo sportivo e fare un'area sportiva e ricucire il paese. Ci furono qualche tentativo all'epoca, poi si è preferito pensare al giorno per giorno per cui paghiamo oggi le conseguenze, su cui io credo che si possa ancora recuperare e credo che questo è l'impegno che dovrebbero avere tutti i cittadini, a prescindere dall'età, i giovani. Il problema è che oggi si tende a evitare queste discussioni. La discussione fondamentale è che noi riteniamo anche una periferia di una urbe, cioè di Napoli, senza avere i servizi dell'urbe, o recuperare la possibilità di una civitas, di una comunità che vede il commercio, vede le attività sociali al centro del paese. Noi abbiamo scelto negli ultimi 30-40 anni, in pratica, di portare le macchine al centro del paese, i cittadini vanno fuori per qualsiasi cosa, ma cominciando dalla tenera età. C'è in più, chiedo scusa se mi dilungo, magari poi ci vediamo. In più noi arriviamo all'assurdo che, ad esempio, i servizi pubblici che sono stati delegati negli ultimi 30 anni dalla funzione pubblica, noi all'epoca avevamo i netturbini, adesso abbiamo delegato al centro. È come se io a casa mia chiamassi uno che mi fa le pulizie, quello mi dice quando devo fermare, ed è giusto, quando devo buttare, ma poi trovo il paese pieno di spazzatura. È come se a casa mia io chiamassi qualcuno che pago e mi lascia la spazzatura in mezzo alla strada. I vecchi netturbini alle 8 di mattina il paese era pulito. Perché questo induce un altro problema. Se un bambino cresce andando a scuola, che deve passare nei sacchi della spazzatura, ovviamente si è a buttare i mozziconi per terra, la carta per terra, e quindi è diseducativa. Quindi manca il sociale e manca quindi il senso di comunità, il senso di educazione al vivere civile. Io credo che bisognerebbe fare, perché nessuno pensa più che il comune è casa propria, è come se io a casa mia buttassi a terra la carta, i mozziconi, e la lasciassi lì fino alle 10 di mattina. Probabilmente non lo sopporteremo. Non c'è più la sensazione che Angri è casa nostra. Questo è un problema che non è degli ultimi 10 anni, ma comincia con la gestione del dopo terremoto. Per cui non abbiamo la visualizzazione, la coscienza, che noi siamo un comune che dovrebbe recuperare l'identità comunale. Grazie. 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 Grazie.